Per quello che riguarda i play-out del girone A, Spal sta perdendo 0-2 con il Pavia, siamo al novantesimo e Diareggio invece sta vincendo 4-1 contro il Monza all'ottantacinquesimo. Per il girone B l'unica partita in corso dei play-off è Siracusa-Lanciano 2-2, qui siamo al novantesimo per i play-out girone B, detto della Triestina Latina, è in corso e siamo all'ottantottè. Siamo aperti anche per le vostre cerimonie, comunioni, matrimoni, come l'Uferson. Ricordare, visto che hai detto Hunger Games, lo di... I will win the parade! I will win the parade! I will win the parade! You're my love, you're my shadey! Weekend Parade! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.